eccoci di nuovo insieme ben trovati stiamo proseguendo in questo video nel viaggio all'interno dei disturbi psicosomatici dei disturbi che dimostrano una correlazione fortissima tra la psiche e il corpo vi ricordate il detto che tutti noi conosciamo giusto mensana incorpore sano ci diceva giovenale noi in questo video possiamo trasformare possiamo aggiungere un altro pezzo mensana incorpore sano e corpus sanum in mens sana cosa significa significa che già alla metà del novecento diversi studiosi si sono interrogati sull'origine di alcune manifestazioni sintomatiche alexander è stato uno di questi studiosi che ha cercato di interrogarsi su quanto un'alterata distribuzione del sistema neurovegetativo potesse dar origine alla cronicizzazione d'organo quindi allo sviluppo di vere e proprie patologie come il sistema neurovegetativo possa avere un impatto così importante sul nostro funzionamento corporeo a dare origine ad alcuni sintomi somatici che noi sperimentiamo l'ipotesi di alexander e poi verificata nel corso degli anni successivi fino ad oggi è stata quella della dell'impatto che il nostro apparato psichico che la nostra mente e soprattutto il campo emotivo quindi emozioni irrisolte siano degli fungano da eccitanti al sistema neurovegetativo che manda messaggeri a questi organi e questi organi sovra eccitati in modo cronico possano poi manifestare dei sintomi dei disturbi alexander faceva riferimento a temi come rivalità ostilità, ostilità, aggressività come all'origine di conflitti irrisolti cosa significa essere vittima di conflitti irrisolti di cui spesso posso anche non essere consapevole perché cos'è che accade? Accade che diventa preeminente nella mia vita il disturbo somatico e io l'aspetto, il convolgimento psicologico tendo a negarlo, a metterlo da parte quindi lo abbiamo visto nel video precedente mi rivolgo prettamente agli specialisti medici che va benissimo e va sempre fatto perché alcune malattie che sono il risultato di questa interazione tra mente e corpo molto forte, ha un disequilibrio tra il mio apparato psichico e il mio apparato biologico sono invalidanti, sono delle malattie importanti, sono delle malattie che meritano e devono avere una presa in carico specialistica, penso all'asma, penso ai disturbi dell'apparato digestivo penso ai disturbi del sistema cardiovascolare, penso alle malattie e sintomi psicosomatici derivanti dal sistema cutaneo, quindi arrossamenti, psoriasi, eritemi ma anche sintomi che ci derivano dal sovraccarico del sistema muscolo scheletrico cefalea tensiva, crampi muscolari, ok? È ampia la gamma dei disturbi che il nostro soma che il nostro corpo porta alla luce, quindi sempre, ormai mi conoscete, lo sapete che lavoro sempre in rete con i professionisti, con i colleghi medici perché è la nostra sinergia e l'integrazione tra ciò che è biologico con quello che è psichico che può garantire dei percorsi migliori per le persone che purtroppo soffrono di questi disturbi psicosomatici. Ci tengo a rimarcare questo aspetto che è vittima di un pregiudizio parlando di sintomo psicosomatico non intendo assolutamente togliere la validità e l'impatto che il disturbo ha, stiamo proprio dicendo il contrario, il corpo parla il disturbo somatico esiste, quello su cui io vorrei farvi riflettere è sulla relazione che questo disturbo ha con la nostra psiche, quanto la nostra psiche può influenzare e impattare sulla risoluzione del sintomo in taluni casi o sulla modulazione dell'intensità della rappresentazione del sintomo, quindi una diminuzione del livello di dolore, una diminuzione della frequenza della comparsa di eritemi, quindi uno dei vantaggi sulla qualità di vita. Questi aspetti sono assolutamente importanti perché ci confermano quanto detto anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che individua nel concetto di salute non tanto è assolutamente superato il concetto di assenza di malattia ma quanto all'interno del concetto di salute ci sia proprio la sottolineatura tra l'equilibrio di tre componenti fondamentali, bio, psico, sociale e quanto stia a noi e alla nostra responsabilità individuale nel creare le condizioni affinché queste tre dimensioni siano in maggior armonia possibile. Nei disturbi psicosomatici l'aspetto conflittuale che si cela all'interno di emozioni irrisolte può favorire nel tempo la comparsa di disturbi agli organi interessati. Nel prossimo video cercheremo di entrare più nello specifico e vorrei condividere con voi la storia di alcune persone che ho avuto l'onore di poter seguire nel viaggio dei loro disturbi psicosomatici. Per ora vi saluto vi auguro una serena giornata vi ricordo che alla fine del video ora dovrebbe comparire il mio volto con dove si può cliccare e iscriversi al canale o ho scelto per voi un video che penso possa interessarvi quindi iscrivetevi e condividete. Grazie e davvero di cuore buona giornata. Grazie 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 a tutti